è una serie lesbica no dico, hanno già vinto cioè sono arrivate tra le... tu fai anche eventi, io ho visto l'inaugurazione del Dubai Cafe presentato, non ti ricordi due anni fa ma sì ho fatto eventi perché ho comunque ho una società di eventi, di spettacolo ho fatto degli spettacoli facendo lavorare poi i miei colleghi cinema fa qualcosa ancora no? allora cinema io ho un film già da un po' di anni però non è facile trovare un aiuto economico perché devo dire la verità non mi posso smenare ci sono già tante altre cose quindi sarebbe bello riuscire a realizzarlo prossimamente dove rivediamo? prossimamente ma avrei dovuto essere in reality dove invece poi alla fine ho deciso di non partecipare l'isola no? no non è l'isola, un altro lo possiamo dire? mi hanno proposto per l'isola però non lo so, vediamo anche perché adesso reality forse è un po' stancato fare una cosa presa, ripresa, rivista non lo so io vorrei fare qualcosa di più mio io ho scritto tanti format ma ogni volta che mi porto me li rubano ti dicono il RAI o alla 7 o a me ah non vanno bene oppure hanno sempre un difetto oppure in questo momento insomma e poi tu vedi che te li hanno copiati sempre così quando sono andata a dirlo a persone autorevoli ma vengono depositati alla CIA da qualche parte no ma tu non sai cosa ci vuole per depositare so, parecchi soldi no non è bisogno di soldi devi essere speditore devi già averlo fatto cioè ci sono tutte delle cose dietro che alla fine complesse esatto però ci sono dei modi per tutelare sì devi comunque la puntata è già fatta e devi comunque spendere dei soldi e capisci è sempre il solito discorso è sempre il solito discorso e piove sempre sul bagnato è un trust è un trust e piove sempre sul bagnato piove sempre sul bagnato tu però hai gli stivali e potrai proteggerti dalla pioggia va bene ma sai dov'è l'unitivale? ce l'ho qua e qua con tanta forza ed energia penso di continuare a crederci almeno sogniamo ragazzi o no? tu ci hai fatto sognare Nadia come la vedi? ok so fare la foto anche